Basta, ce ne andiamo Tesoro, ti prego, calma Calmarmi? A chi vogliamo prendere in giro? Io sono un orco Non sono tagliato per queste cose, Fiona E non lo sarò mai Secondo me è andata ben in... Ciocchino! Oh, dai, su, Shrek! Certe persone proprio non conoscono limiti Sì, 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 sì